E ragazzi, oggi siamo insieme alla mia amica Jo Ciao E l'avete già vista in un video che è del video del provino E se non l'avete visto, mi raccomando ragazze, andatela a vedere Niente, vi dicevo Oggi faremo una partita un pochetto così casuale Allora Guardiamo il tipo dove va, quindi va lì, io vado qui Allora Vai, vado a fianco 48 Provato Già c'è gente qui, io vado Che non sembra Vai, io prendo te l'armi e vengo Vai Ok, vai, atterrato C'è il suo amico Vieni già Arrivo Non ho trovato un pochetto, però c'è la nostra diversa Ok, ucciso 16 a 1 14 Ok, ho ucciso Si, ho ucciso 1 Io ho praticamente fatto un po' di strage Vai, io non ho più colpi È vero, quando li trovi quasi mai colpi Colpi punto mi mancano Sì, non c'è qualche pompa Fai prima Ok, qua da me c'è gente Vai, lo so, va che è un pompa Arriva Vai, fa Marasmo Sede Cosa Vai, ucciso Mi hai curata Sono sopra di te Specialista Raga, meglio Qua c'è Già lo specialista Se lo vuoi Sì Vieni la scopa Vai Dai, regà Non è iniziata male Scopa C'è un deltaplano, già Vai, arrivo Stanno restando Io pusho Ho sentito Non prendo niente 5 kill osse, raga Raga, quanti materiali ho già Allora, giochi Perché qua c'è gente Ok, ho appena visto un tico 23 È bianco Qua, 81 Tu no Ok Vai, regà Vai, ucciso Uh Su qua si era fatto il boss Era da solo, già Ok Ok Ok, vai Se vuoi c'è una metallica Ma è la premio Sparano davanti a me Io andrei Insegna verso di A Poi se ce li hai Mi puoi dare un po' di colpi Della mia caglietta Vai, te li lascio qui C'è gente Lei Sì 53 a 1 Su Ok, l'ha finito Tu Fatto Barava Ok, ci hanno lanciato Un po' di zucche Push Sì, ho visto Vai, vai Andiamo Andiamo Stante che mi prendo il muro Da Gio Oh Gio Gio mi ha fatto Gio, io c'ho 9 di vita E io 20 Io scappo Vai, anch'io Ci avrei scommesso, raga Ci avrei scommesso Che mi si fermava lì Vai, vai, vai Ho trovato questo Lo prendo? Sì, grazie Che io mi fullo Un attimo C'ho 20 di vita Eh, io ho trovato Un botto di roba Che culo C'ho medie Che ti mi sto facendo Vai, io lo vado a pushare Aspetta che c'è giottino Già Mi sta venendo in caccia Il scappo Mi hai lasciata qua No Dov'è? Va Va giù Ma la mia mira Regala troppo No Gio Vieni verso di me Sto arrivando Che è pieno Guarda Mi nascondo qua dietro No Gio Vieni veloce Eh sì Ma c'è gente Vieni Hanno deciso Tipo la Lo sparo Lo sparo Vai grazie C'è cure Eh no Niente Vado a vedere se la ci sono cure Sì Qua giù c'è gente? Sì Medikit Vai Io non me l'aspettavo così forte Sto qua Io stavo per uccidere No mi si stanno scaricando le cuffie No 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 Aspetta 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 Gio c'è gente qui Io vorrei andarla a pusciare ma non posso Sì Mimì prendi un attimo le cose per caricarle Oddio ragazzi Tu mi senti no Gio? Sì sì Mi dà un po' di colpi che chi era il cecchino Che non zero Ce l'ho trovato uno Vai Caricate Vai Gio Andiamo andiamo C'è la carichi mi senti no? Sì sì No rega ma come faccio a fare così schifo? La mia mira equivale a quella di un criceto morto Bello questo Cos'è il marasma? Sì Dai col pochettino per te Ok vai Ok Meno male che si è accalmata un po' la sigla Ah infatti C'è l'altro Io sto andando qui Qui hanno rotto c'era una certa legge Oh no Lancia zucche Non saprei a cosa c'è solitamente C'è sta legge Che schifo Oh no non so se prenderlo perché c'è già il cecchino Eh appunto Vai vieni Gio Dai dai non abbiamo iniziato male Eh Un po' un po' C'è proprio l'inizio l'inizio Eh sì poi c'è stato quel momento dove c'era C'era questo Ok C'è Gio Scendi Eccoli C'è un altro qui Io vado da questo qui Tu vedi quello lì che ti ho pingato C'è quello che ti ho pingato prima Vai ci sono Ok Atterrato Lo finisco Finito Tu l'hai fatto Vai Vai Te l'ho stillata Esatto Sparano davanti a me Laggiù Ci hanno lanciaraggi Io provo Che ciò L'arrivo Lasciato Dai raga No Gli ho fatto Gli ho tagliato Gli ho tagliato Gli ho tagliato Gli ho tagliato Mi posso girare le gambe No Ok No No Gli ho Gli ho Sono In fortissimi Anche Qualcuno Con cieco Non è male no cento 5 a 1 allo sacchiotto visto usciamo veniamo sicura no qua ci moriamo secondo me che ci andiamo appunto vabbè però voglio non ci mandare a vedere vieni vieni andiamo qua sopra stanno uccidendo i boss qui io andrei perché almeno sono occupati passate qui da me almeno perdono anche un po di vita oppure tu dici di aspettarli qua dal cavo secondo me se li aspettiamo l'unica cosa c'è la tua camera no 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 sono qua ma perché il box sta sparando a me k è appunto no vai ma perché c'è il bot no jo mi hanno laserato scappa scappa ma chi è che ti ha raterato non ho capito il box vabbè sai che nel mente cosa facciamo nel mentre che ci siamo io direi di ucciderla no se valerò almeno ci andiamo a fare vabbè 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 Lì, appunto c'è un tipo da me, aspetta gli arrivo da dietro Non mi ha neanche spesa Ok Se lo voglio Che brutto lutto che però danno Eh infatti Non so se prendano questo qua nuovo Perché Io non lo so usare, che mi lascio Stai io ce l'ho blu il pompa però Ah se io non prendo niente Non manco io Allora Finirei a giusto per Già sparano Aspetta Ho sentito una streghetta Per cui Boh non lo so Vabbè dai Allora Se andiamo in là Andiamo in se il film Andiamo verso di là Che almeno ci abbiamo Il doppio vantaggio Oh che Fortuna C'è pure la fenditura Già Fai Ah ma sono nella Non capisco dove è che sparano Io ti sto seguendo Ma mi sa che sono sopra di noi Nella Terra Nell'isola No Eccoli C'è un tipo qui Sono dei tipi qui Joe Io andrei 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 la qualsimane Non sono gli stessi Vero Io la terrò sopra Ok Uno fatto Vai 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 Perché tanto Io Sì 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 Lozzo Oh vai Forse ce la possiamo fare A superare il record Sì appunto Perché rega È da un voto di giorni Che stiamo cercando Di superare il nostro record Di vittoria Oh Joe Cosa ti ho detto Prima del video Io quando sono nel video È vero È vero Oh prima Non ho fatto Neanche ad arrivare A dieci persone Adesso c'è Vale Servono qui No Tu quanto hai di cecchino Eh ne ho 42 Vabbè vabbè Io non ho 23 però Ci so E ti servono poi No Sparano davanti a me Eccoli là 110 a 1 Io pusho Non so male a costruire Qui c'è il tipo Che prima C'ha lagerato Andiamo Ho visto Andiamo dai Tanto gli arriviamo Di dietro No Sì No sì Sono sempre lì Ho rotto Chiudo Perché mi sa Che è meglio Che non ce l'avevo Fatto uno No Il ragno Uno l'ho fatto L'altro no Il ragno Non l'ho fatto Ho fatto quello bianco Già Aspetta un attimo Non so cosa fare Se andarmene via Cosa dici di fare Ok mi sento stare No non è vero No sì Ok vai Ucciso uno Vai L'altro mi ha ucciso Ah Sono lessati Eh sì Deve aspettare che se ne vadano Secondo me Sono lì sotto Soprattutto Bravo Fatti la scelina Vabbè Quelli lì Scherzato Esatto Cazzo bravo Ok Mi sa che anche se ti prendo La scheda del resto Non so dove Vabbè Io ci provo Ci provo Ci provo Già Vai vai Se vengono verso Di me Tutto il giro Sclero Siamo in quattro Se ti resta Siamo in cinque Quindi c'è Eh sì Siamo Dai veloce Dai Dai Vai in quello lì Di burgone Di riavilli Non lo so Un attimo Eh perché se vado in questo Non ho cure No no Non ci va Ce n'è uno qua Ah ma quello lì è lassù Non so Non so Prendi andare lassù Ci vado Non so Va bene Con me È l'unica Già Vai Almeno magari qua ci trovo Anche qualche arma Siamo in tre Contro un team Quello forte Eh Quello forte Sì Arriba dura Appunto Fui io Arriba dura Arrivano Già Mi segna Di dette plant Sono io No Vai ho trovato lo specialista Con lui Già Stanno salendo Arrivo C'è la safe Appunto Io andrei via Vai No no Non so Trova qualcosa Sì Dai no Già Oh Era safe Eh Avevo preso la jump Sono morta No Ma cosa mi fa Lo scildone Oddio cristo Lo scildone Mi fa Vai Sei su contro loro Sì Dai dai No No C'è la scala girata Vai No 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 C'aveva Vabbè dai Buono Vabbè dai Ragazzi mi raccomando Se il video vi è piaciuto Lascia un bel like Iscrivetevi al canale A un prossimo video Ciao raga Ciao ! No